Fa uno strano effetto questo silenzio, non accade spesso che su cinque nessuno apre bocca, ma chissà, magari pensano come me a quanto è strano e imprevedibile questo lavoro, eppure la giornata era iniziata nel bene, abbiamo fatto felice una signora, è bastato aprirle la porta di casa per ridarle il sorriso. E che dire dell'incendio di quell'appartamento al centro? La mia squadra ha lavorato alla grande, abbiamo portato in salvo un'intera famiglia, ma era destino che non finisse con quell'incendio la nostra giornata, la mia squadra è stanca, stiamo rientrando da un brutto incidente stradale, abbiamo fatto il possibile, non abbiamo potuto fare altro che estrarlo senza vita quel poveraccio, vuoi fare tutto il bene del mondo, ma il dolore per una persona che ti muore tra le braccia non te lo scordi più. Ma il bello di questo lavoro è che basta un piccolo, un piccolissimo gesto per farci tornare il sorriso. Orgogliosi di essere vigili del fuoco. Orgogliosi di essere vigili del fuoco.